Grazie Presidente, grazie a tutti. Allora io cerco di essere molto sintetica nelle risposte. Parto dalle prime domande che sono state fatte, in particolare vorrei ricordare questo, e questo lo devo dire come premessa. Noi abbiamo elaborato da subito, in circa sei mesi, un piano di gestione sostenibile dei materiali post-consumo, perché a nostro avviso è necessario rispondere anche a quelli che sono i problemi concreti dell'emergenza con una pianificazione che rifletta una visione della città, cioè dove vogliamo andare. Questo è il tema centrale, credo che stia a cuore poi a tutti i cittadini. Allora dove vogliamo andare? Qualcuno di voi ha fatto riferimento a una determinata impiantistica, termovalorizzazione, inceneritori. Ecco allora io non vorrei subito soffermarmi su questo tema, ma vorrei dire che nelle premesse del nostro piano c'è una visione che è quella dell'economia lineare, cioè noi in questo secolo dobbiamo passare da un modello di economia lineare che ha creato del valore perso, perché qui sta il tema, la creazione di valore perso, cioè il vecchio modello di gestione dei rifiuti creava anche dal punto, non parlo dal punto di vista ambientale, non parlo dal punto di vista sociale, parlo dal punto di vista economico, del valore perso che andava a finire appunto a Malagrotta, 500 miliardi di tonnellate di rifiuti buttati lì che forse qualcuno poi recupererà come già stanno facendo negli Stati Uniti e in altri paesi, che creava valore perso con materiali anche pericolosi per arrivare invece a un modello che è quello anche approvato dalla nuova direttiva europea, noi siamo molto convinti di questo, che è quello dell'economia circolare. Quindi il nostro modello, cioè la vision su cui noi abbiamo costruito le risposte concrete, arrivo subito alla concretezza perché so che a Roma c'è bisogno di concretezza ed è giusto perché i cittadini hanno bisogno di concretezza. Allora noi abbiamo impostato un piano che prevede tre livelli, tre profili di intervento. Il primo è quello, e noi li chiamiamo materiali post-consumo perché vogliamo creare l'opportunità di una nuova economia, una nuova green economy in cui tutto quello che è il frutto del nostro consumo possa essere, possa diventare oggetto di nuove attività industriali. Quindi questa è l'ottica in cui noi ci muoviamo e ci muoviamo con seri investimenti. Il primo investimento è quello forse anche prioritario come ci insegna la Commissione europea. Ci siamo mossi nell'ottica del rispetto rigoroso della gerarchia indicata dalla Commissione europea nella gestione sostenibile dei rifiuti. Al primo posto, dice la Commissione europea, voi dovete lavorare per la riduzione della produzione dei rifiuti. Il nostro piano prevede la riduzione rispetto a 1.700.000 tonnellate, che sono i rifiuti prodotti a Roma, di 200.000 tonnellate. Come lo fate? Lo facciamo in modo scientifico. Devo dire che già il primo dato di questi sei mesi, io sono qui da sei mesi, è una riduzione del 3,5% di produzione dei rifiuti. Il nostro piano prevede 12 azioni, azioni misurabili, perché credo che in ogni contesto sia giusto anche capire se le azioni che stai mettendo in campo sono efficaci o no. Quindi degli strumenti di misura e di calcolo di quelli che sono gli effetti effettivi, veri, di quella che è la nostra attività. Quindi adesso non ve le sto a dire le 12 azioni che noi abbiamo messe in campo ma che si sono mercati a impatto zero. Oggi cosa troviamo noi per Roma in giro? Troviamo carte e cartoni? Troviamo cassette? Allora, ad esempio, stiamo lavorando in modo molto serio su due aspetti, che sono la riduzione della produzione dei rifiuti nei mercati, attraverso ad esempio l'utilizzo delle cassette ripiegabili, l'intervento appunto in generale su una serie di azioni che ci consentano di combattere lo spreco alimentare. Noi abbiamo messo in campo in alcuni mercati, soprattutto appunto in ambito anche periferico, nell'ottavo municipio, come ricordava l'onorevole prima, un municipio per il quale stiamo prestando molta attenzione anche con la collaborazione dei cittadini e stiamo facendo una serie di azioni che contribuiranno in parte, ed è tutto appunto in questo piano assolutamente valutato e misurabile, in modo percentuale alla riduzione, per arrivare alla fine alla riduzione di 200.000 tonnellate. Questo è il primo profilo. Secondo profilo, estensione della raccolta differenziata. Certamente a Roma l'attuale raccolta differenziata è del 44,3%, è una raccolta differenziata che purtroppo però si basa su un modello che ha presentato diverse criticità, cioè le realizzazioni del modello di porta a porta che abbiamo trovato in particolare a Trastevere, in particolare nell'area del Ghetto, in altre zone della città, è un modello porta a porta molto non funzionante come tutti i porta a porta che anche io ho realizzato anche in ambiti passati, cioè molto efficiente, molto capace di raccogliere immediatamente tutto quello che viene esposto, magari quello che viene esposto deve essere esposto secondo i criteri in modo rigidissimi, allora stiamo revisionando il sistema di porta a porta, lo stiamo estendendo sul sesto, lo stiamo progettando per l'ottavo e soprattutto stiamo intervenendo per realizzare e questo è un altro tema che è stato toccato, un problema enorme che è quello dell'ottimizzazione della due diligence di AMA, perché abbiamo visto che AMA aveva e ha delle grandi inefficienze dovute peraltro non a responsabilità anche dei lavoratori, ma a responsabilità di un sistema logistico e organizzativo che non risponde a delle esigenze di efficienza, esempio ci sono degli operatori che per andare nel luogo di lavoro, per portare nel luogo gli strumenti e i mezzi per ottenere determinato risultato devono perdere due ore andare, due ore tornare, allora noi stiamo studiando un sistema, lo stiamo mettendo in pratica, di cosiddette AMA di municipio, le AMA di municipio sono la risposta perché l'efficacia degli interventi si è immediato, Roma ha 8600 chilometri di strade a fronte di una Milano che ha 1700 chilometri di strade, quindi voi potete immaginare cosa significa organizzare il servizio di raccolta per 8600 chilometri di strade, allora noi stiamo efficientando in modo molto serio, molto attento questo sistema appunto con una riorganizzazione completa del modello di raccolta e del modello di AMA. Poi naturalmente ci sono altri aspetti molto importanti, stiamo intervenendo sulle utenze non domestiche e devo dire che soprattutto in Viale Marconi, quindi con circa 2000 utenze commerciali, abbiamo fatto un accordo con Comieco per la raccolta appunto di tutti i cartoni, questo progetto che tra l'altro è stato un progetto partecipato, è già oggetto, questo ve lo dico semplicemente perché ve lo potete andare anche a leggere, di una reportistica scientifica che valuta tra l'altro oggettivamente, molto positivamente, questa esperienza che abbiamo avviato appunto in questi mesi di raccolta differenziata porta a porta per le utenze non domestiche, con un risultato del 16% di incremento di raccolta. Certamente estendere tutto questo alla città è un impegno molto gravoso, significativo, ma noi lo stiamo facendo appunto soprattutto in quest'ottica delle ama di municipio. Accanto però a queste azioni noi vogliamo mettere anche in campo altre azioni, abbiamo trovato ad esempio un porta a porta che doveva rispondere alle necessità di tipologie abitative enormi, per cui abbiamo deciso invece di trovare delle soluzioni di un porta a porta dedicato, quindi anziché migliaia di cassonetti o bidoncini piccoli fuori appunto da questi condomini abbiamo deciso di istituire le domus ecologiche che sono degli spazi riservati ai condomini dove è possibile anche poi applicare la tarifazione puntuale per i cittadini e questo è molto importante perché con la tarifazione puntuale i cittadini pagano per quello che producono e quindi naturalmente sono più anche invogliati a ridurre la produzione di rifiuti. Abbiamo istituito oltre alle domus ecologiche abbiamo realizzato le isole ecologiche, stiamo realizzando devo dire in sei mesi, io vengo da altre amministrazioni dove ci abbiamo messo molto più tempo per realizzare sette isole ecologiche, Roma aveva solo 14 isole ecologiche, quando voi sapete benissimo che lo standard medio in una città sono un'isola ecologica ogni 50.000 abitanti, quindi noi stiamo cercando di rincorrere tutto quello che è la situazione attraverso una pianificazione molto puntuale. Terzo livello, quello che riguarda l'impiantistica sostenibile, noi stiamo investendo per realizzare da subito impianti aerobici per il trattamento dell'organico perché certamente la nostra risposta è quella anche di investimenti sull'impiantistica e così mentre ci sono, rispondo anche al tema di Colleferro, ecco, noi abbiamo fatto un ragionamento molto importante su Colleferro, noi sappiamo benissimo che a Colleferro ci sono appunto due linee di cui una al 100% della regione, l'altra al 60% della regione e al 40% di Ama, allora abbiamo messo in sicurezza dal punto di vista economico la situazione di Episistemi e questo è stato un obiettivo economico e poi abbiamo fatto un ragionamento invece di tipo gestione industriale dei rifiuti, abbiamo detto oggi, le abbiamo viste anche in tutta Europa, ma che cos'è che funziona bene per recuperare anche quelle 449 mila tonnellate di rifiuti che restano dopo aver raggiunto comunque questo ambizioso, e lo dico io che è ambizioso, il progetto di raggiungere il 70% di raccolta differenziata, se voi andate in un TMB che cosa trovate ancora? trovate ancora tanto materiale che potrebbe essere recuperato ed essere destinato appunto a diventare materia prima e seconda per nuove attività industriali, quindi per nuove occupazioni cosiddette tra virgolette green, quindi lì si ritrova ancora frazioni legnocellulosiche, si trovano ancora metalli, si trovano ancora plastiche leggere, plastiche di pregio, si trovano ancora del materiale organico che comunque può essere recuperato, allora noi abbiamo detto, questa è la nostra proposta, vero Virginia? Benissimo, noi siamo favorevolissimi a realizzare una fabbrica dei materiali, questa è la fabbrica dei materiali, cioè quella che va a intercettare dopo la raccolta differenziata ulteriori frazioni come stanno facendo tutti i paesi, diciamo, dove questo modello è un modello abbastanza avanzato di gestione sostenibile e industriale, soprattutto dei rifiuti, quindi questa è la nostra risposta su Colleferro. Per quanto riguarda l'anno al salario, certamente noi abbiamo detto se rispetteremo il percorso che abbiamo indicato per la raccolta differenziata, per l'impiantistica sostenibile, noi siamo favorevoli assolutamente alla chiusura nel 2019 del salario. Attenzione però, quest'impianto, io la prima cosa che ho, scusi ma lo devo proprio dire, la prima considerazione che ho fatto quando sono andata al salario è, ma come? Un impianto realizzato circa dieci anni fa è stato realizzato con criteri così vecchi, dove c'è una bassissima perdita di massa, cioè voi sapete che se 100 kg, se noi facciamo il trattamento meccanico-biologico, possiamo ottenere una consistente perdita di massa che sono soldi in meno da pagare per il trattamento, soldi in meno appunto da pagare per... Ecco, qui abbiamo un impianto che purtroppo è stato costruito non con tecnologie efficienti, allora, ed è questa la ragione per cui non essendoci la perdita di massa, fa appunto e da questi problemi. Oggi però esistono per fortuna delle tecnologie, diciamo innovative, che possono consentire in un qualche modo tecnicamente, attraverso la creazione di tunnel, di controllare gli odori. Quindi, al di là del nostro impegno di chiusura al 2019, la prima cosa che stiamo facendo con grande attenzione è di intervenire appunto sulle emissioni odorigine attraverso i tradizionali sistemi che si usano in tutte le tipologie di impiantistica, verificandone l'efficacia, anche con l'utilizzo eventuale di nuove molecole purché naturali e, in secondo luogo, con interventi tipo tecnologico che in 3-4 mesi possono consentire di andare a far fronte a questo problema della perdita di massa e quindi a riportare correttamente questo impianto alle funzionalità appunto necessarie perché funzioni in modo efficace. E certamente l'altra considerazione che faccio è che ho mai visto, ho visitato tantissimi impianti anche in Germania, ma non ho mai visto un impianto costruito in mezzo alle case, perché è ovvio che un impianto costruito in un'attaccata a una via di grande comunicazione e questo è il grande tema e la popolazione ha profondamente ragione nel rivendicare appunto la necessità di questo tipo di interventi. Ancora, altre considerazioni che volevo fare sui rifiuti, sui RAE, perché è stato toccato questo tema dei RAE. Allora, lei ha perfettamente ragione, l'onorevole che parlava e che interveniva sulla necessità di affrontare seriamente il tema dei RAE, io l'ho anche molto studiato con la mia università, effettivamente è un problema serissimo. Però, uno, abbiamo una normativa nazionale avanzatissima che però purtroppo si chiama uno contro zero, cioè chiunque oggi può portare in un qualsiasi attività commerciale che abbia una superficie superiore ai 400 metri quadrati, qualsiasi tipo di apparecchio elettrico ed elettronico, quindi frigoriferi, tutto quello che vuole, gratuitamente, e l'impresa è obbligata a prenderlo. Ora, questo non è conosciuto, noi stiamo cercando invece di diffondere questa informazione che viene da una normativa nazionale dell'uno contro zero, che è molto importante. Non solo, oltre a questo, noi comunque ritiriamo gratuitamente come ama, e quindi esiste un servizio a chiamata per cui è possibile ritirare gratuitamente. Quindi stiamo cercando comunque di contrastare, di contrastare appunto in modo molto, diciamo, efficace il fatto appunto che questi rifiuti vengano poi, siano oggetto di interventi di tipo illegale. Però in primo luogo, a mio avviso, dovrebbe essere quanto più fatta conoscere attraverso anche i consorzi di filiera, tutto quello che volete, questa normativa che è importantissima proprio per ridurre a monte il problema degli AE, che diventano appunto RAE, pericolosissimi per la salute e per l'ambiente. Ma a questo vorrei anche ricordare che, come abbiamo già detto in Commissione Eco-Mafie, in Italia si producono 12 kg abitante anno di RAE, ma ne vengono raccolti in Italia soltanto 4,5 kg, perché il resto di materiali RAE vengono sottratti e sono sottratti a una gestione legale. Quindi qui c'è da effettuare un grande lavoro di contrasto alla criminalità che probabilmente si inserisce in questo fenomeno e d'altra parte anche studi della BBC e altri studi di agenzie europee e internazionali hanno dimostrato questo fenomeno, che è un fenomeno molto serio. Volevo solo dire due cose veloci, poi avete toccato tanti temi, quello delle bonifiche, noi comunque nonostante gli interventi extratari abbiamo fatto, anche Andrea, l'assessore Mazzillo lo sa, 60 interventi di bonifiche che costano tantissimo ai cittadini romani, rispetto appunto al problema degli insediamenti abusivi, per cui noi attraverso, grazie alla collaborazione dei PICS e di AMA, si interviene, si pulisce. Sul verde volevo dire che nonostante la situazione gravissima che abbiamo trovato, soprattutto in mancanza di mezzi, cioè per 2 milioni di metri quadrati di verde, io ho trovato un trattore e un decespugliatore, io penso che a casa vostra ne avete di più. Allora, questa è stata la situazione che noi abbiamo trovato dopo mafia capitale a Roma, stiamo cercando, abbiamo già acquistato un centinaio di mezzi, stessa cosa peraltro stiamo facendo con AMA, abbiamo già acquistato 90 mezzi per raccogliere, perché a volte i rallentamenti nella raccolta dipendono al fatto che in un'azienda che è la più grande di Europa mancava un sistema di officine tale per cui se un pezzo mi si rompe io lo devo cambiare subito, invece purtroppo questo non accadeva, così come non accadeva nel servizio giardini, perché il servizio giardini poi era totalmente, avendo affidato tutto all'esterno, carente di qualsiasi mezzo. Noi abbiamo comprato trattori, decespugliatori, stiamo dotando ogni municipio, quindi con una visione di municipio per essere vicini al territorio, stiamo dotando appunto tutti i municipi per dare una risposta efficiente alle necessità concrete che la popolazione ha di vedere sfalciato tutto. E abbiamo anche un piano, ma un piano che è molto serio, perché io voglio vedere ogni settimana la pianificazione degli interventi, voglio vedere il prima e voglio vedere il dopo. E lo diffondo, perché se voi andate a vedere nella pagina di comunicazione del Comune, tutti i nostri interventi sono rigorosamente dettagliati. Certamente, come diceva la nostra sindaca, abbiamo 44 milioni di metri quadrati, oltre a 330 mila alberi, ma con le nuove agare che sono state splettate adesso, certamente almeno riusciremo, i più importanti, a metterli in sicurezza. Due robe veloci su Castel di Guido, anche in questo caso abbiamo trovato una situazione interessante, perché in Castel di Guido naturalmente sono circa 2000 ettari di fasce collinali di agro romano, interessantissimo, purtroppo anche in questo caso totalmente abbandonati a se stessi. Allora, il nostro impegno è stato quello di fare uno studio immediato per capire come intervenire. Abbiamo già individuato delle linee di intervento che sono appunto, innanzitutto, un lavoro di messa in sicurezza dei luoghi, premessa, stiamo lavorando con la Regione per ottenere il canone ricognitorio e anche per avere dalla Regione una gestione unitaria, e abbiamo colloquiato insomma con l'assessore competente in modo molto serio, per avere e applicare una visione unitaria di intervento rispetto alle tenute agricole dell'agro romano, quindi una visione non frammentaria ma unitaria, con interventi di lavoro di messa in sicurezza dei luoghi, di ripristino delle recinzioni aziendali, di sistemazione forestale, proprio per il contenimento degli incendi. Peraltro un po' di giardinieri li abbiamo destinati 20 proprio al piano antincendi di Roma e se Castelfusano non è bruciato è perché è stato l'intervento pronto del servizio giardini che ha segnalato immediatamente la vedetta che era presente, l'inizio appunto dell'incendio purtroppo per un'area come avete detto voi. Poi vogliamo soprattutto rilanciare, perché questa è un'azienda che potrebbe guadagnare dai dati che noi abbiamo, noi abbiamo che la verifica della produzione aziendale basata su criteri appunto etici dovrebbe dare dei risultati straordinari in termini di produzione appunto di latte di foraggio. L'oliveto completamente abbandonato a se stesso, noi lo abbiamo messo con un ripristino dell'oliveto aziendale da tempo abbandonato che con una corretta gestione agronomica potrebbe prevedere una riproduzione di circa 70 quintali di olive per ettaro. Ancora la messa in cultura di 45 di agro di palidoro che attualmente non sono coltivati a niente, ha un po' di erba medica, mentre invece potrebbero essere suscettibili di produzioni e di diversificate produzioni orticole. La predisposizione di un'area per il compostaggio fatto lì perché così il compost lo si usa anche per poi andare a dare di nuovo vigore a questi terreni che a fronte dei cambiamenti climatici oggi sono nelle condizioni appunto in cui sono, la valutazione del ripristino del caseificio aziendale. Io quando sono andata a visitarlo ho visto un caseificio ottimo che però solo perché manca un collegamento non era messo in funzione, non è in funzione. Allora noi vorremmo nella nostra pianificazione rimettere in funzione ripristina del punto vendita aziendale, poi ancora marchio aziendale che possa valorizzare i prodotti, ampliare le culture presenti in azienda e attivare naturalmente anche collaborazione con enti di ricerca per fare appunto delle attività anche di sperimentazione innovative nell'ambito dell'agricoltura biologica che oggi possono essere di grande interesse. Questo se possiamo, come pensiamo anzi, in profonda sinergia naturalmente con la regione Lazio che è naturalmente proprietaria, come sapete, sia degli immobili che del terreno e quindi occorrerà lavorare in stretta sinergia con la regione per questo. E infine vorrei ricordare che noi aspettiamo ancora i 20 milioni di euro dal Ministero dell'Ambiente per potenziale la raccolta differenziata. Siamo ancora in attesa, l'abbiamo richiesti già ormai e questo è necessario perché naturalmente con le risorse che ci sono oggi a disposizione, questi 20 milioni di euro che peraltro erano già garantiti però ancora non sono arrivati. Grazie. 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 Grazie.